A Parigi sono stati sorteggiati i gironi della Nation League 24-25 delle quattro leghe all'Italia di Spalletti inserita nella prima fascia della Lega A non è andata molto bene, gli azzurri sono stati infatti inseriti nel gruppo 2 insieme a Francia, Belgio e Israele. L'obiettivo sarà migliorare i due terzi posti consecutivi conquistati nel 2021 e nel 2023, si parte il 5-7 settembre con le prime gare del girone. Le prime due classificate voleranno ai quarti di finale in programma il 20-25 marzo 2025. Le final four si terranno il 4-8 giugno 2025. Il nuovo format della Nation League introduce i quarti di finale col passaggio del turno per le prime due del girone. Le vincenti dei quarti otterranno il pass per le finals in programma nel giugno 2025 in casa di una delle quattro finaliste. Solo la quarta classificata del girone retrocederà direttamente nella Lega B, la terza giocherà uno spareggio salvezza con una delle seconde della Lega B. Fino alla passata edizione accedevano alle Final Four solo le prime classificate dei quattro gironi della Lega A. Oltre ad assegnare il trofeo in sé e a valere per il ranking, la Nation League inciderà anche sulle possibilità di qualificazioni ai mondiali del 2026.